Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Farcrarca ed in cui oggi proveremo della bella, spero, roba basandoci sempre su questi livelli personalizzati Allora, oggi ho in mente tre cose per voi Due me le suggerite un caro amico e una ve la propongo io Allora, intanto devo andare... no, ho sbagliato le mappe Devo andare su mappe preferite e qui cominciamo con una grossa citazione cinematografica se la trovo che è la mappa dedicata a John Wick uno dei film che a me sono piaciuti di più negli ultimi anni il primo, perché il secondo è qualcosa di abominevole secondo me ma il primo è molto bello e ve lo consiglio se ve lo siate persi vediamo la mappa a lui ispirata com'è perché a questo punto la curiosità è oggettivamente tanta ha giocato 875 volte ha ricevuto quasi 4 stelle piene per cui dovrebbe essere quantomeno decente vediamo se effettivamente lo è soprattutto se è fedele in qualche modo a quella che è la pellicola cinematografica del buon Chiano Reeves che con il sequel di John Wick ha rovinato tutti i bei ricordi del primo capitolo della serie ma comunque le considerazioni cinematografiche le lascio ad altra sede allora ci siamo John Wick Baba Yaga Huntsman no io vado di John Wick ah mi parte proprio così devo entrare e fare il panico va bene io passo quindi ho un sacco di bersagli secondari e un bersaglio primario dispongo di un sacco di roba tutta iper silenziata sono tutti segnalati già per cui ah mi vedi pensavo che sarebbe andato giù con un colpo solo e invece no ahia vado a uccidere il peccatore io sarei John Wick non sarei un peccatore in realtà vabbè io vado nessuno mi vede se nessuno mi vede nessuno può colpirmi giusto ah già quello è pure cecchino allora tanto mappa bella grossa andiamo andiamo non mi devo curare di loro vado dritto verso la meta che è lontanerrima io me la sono fatta nei boschi che è tanta roba vorrei fare la stealth per una volta vorrei riuscire in questo difficilissimo obiettivo chissà se se riesce il fatto che Drwick avesse il rampino mi sfugge ma ovviamente allora che colpo chissà se ci fosse uno a tavola praticamente ehm dunque 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 la ce n'è uno la ce n'è un altro diciamo che qua sono tutti mezzi paralizzati io devo riuscire a eliminare questo senza farmi vedere da questo ehm potrei eliminare questo potrei sbagliare ok cosa fa quello in cima sta scivolando giù dal tetto vabbè si è salvato per grazia divina raggiungi l'uscita eh questa sarà la parte complicata qua scatta il momento Joe Wick violento ehm porca di quella mis- vabbè ma mi stanno lanciando tutto via 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 panico un attimo il lanciamissili mi mancava posso uscire dalla finestra mi è concesso no via via devo tornare alla macchina mi sa ho questo vago sospetto comunque è bella è stata bella tosta devo dire per quanto lo stealth al solito sia passato dall'essere una uno stile di vita al diventare una semplice illusione ma calma 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 è qua la via d'uscita via 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 carino carino non mi è dispiaciuto sto livello devo dire ben fatto nel complesso abbiamo alzato anche qualche lira per la campagna bene allora adesso questo si ci è piaciuto lo valutiamo bene il prossimo che vorrei fare oggi con voi si chiama the wall e sta funzione già con l'altra mappa non funziona per motivi che ignoro torniamo ad arcade si chiama the wall e e mi intrigava semplicemente l'immagine che poi è quello che ha intrigato anche il mio amico che io chiamo un altro sbagliato non è perché lo conosco con questo nick l'ho conosciuto con questo nick e per me rimarrà sempre quello anche se cambi se cambi nick amico mio dunque the wall andiamo su the wall e è un po' ambiguo perché libera l'avamposto a tre stelle e un'antichia e è un po' strana come mappa però chissà che non ci riservi qualche bella soddisfazione 359 giocate e è una valutazione un po' così credo che dovremmo semplicemente liberare ma ricorda tanto il trono di spade e la grande barriera tocca vedere se effettivamente al di qua di questa barriera c'è lo stesso orrore che invece nasconde nasconde la barriera di di game of thrones dunque io direi di andare su assalto sinceramente avamposto ooo santo cielo vabbè c'è sta io sono sul sul muro no vabbè il panico allora c'hai avuto un fiudo amico mio che dunque sembra sembra una di quelle basi di metal gear però applicato a far cry dovrebbero essere finiti ok 24 nemici io non sapendo ne leggere ne scrivere andrea oh vedi che tipo potremmo cominciare con una cosa di questo tipo ok 4 sono volati giù no con lancia granate penso che ci facciamo davvero poco devo tenere conto anche della balistica qua che ci mette un bel po' ad arrivare il colpo eh ah i nemici sono diventati 81 così all'improvviso vabbè allora preso pieno preso pieno dunque andiamo a intrattenerci lì diciamo che provochi degli effetti un po' nefasti in tutti ma no mi ha preso un giro sbagliato e ma gli 81 nemici in arrivo mi sa che li hanno un attimino io direi che posso anche fare una cosa a questo punto cos'era ho sentito un bombardamento inaspettato c'è qualcosa che non sta quadrando vabbè i trick e track ci stanno però io sto mandando ma perché che è vabbè si diceva liscio liscio ma troppo lontano vabbè mi tocca andare là ho capito va e prendo l'elicottero a mali estremi estremi rimedi via forse a mali estremi ok 17 su 81 voglio capire gli altri ecco 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 avete capito dove sono tutti certo ci fosse un filo in più di distruttibilità ambientale questo gioco sarebbe il capolavoro dei capolavori perché tipo sarebbe bellissimo tirarli giù questi palazzi ma ma da dov'è che mi stanno sparando io scendo un attimo per capire un attimo ah eccoli un po' facciamo una cosa generalizzata ma dove arrivano tutti quanti oh vabbè è bello tosto come livello devo dire anche se un po' fine a se stesso ma aspettavo una cosa un po' più accesa rispetto a un fai un bordello e cerca di sopravvivere mentre lo fai quindi direi che possiamo passare a un'altra questa mi è piaciuta l'idea ma non mi è piaciuta granché in modo in cui è stata realizzata per cui gliela voto in giù ecco e adesso chiudiamo con un grande classico perché ci vuole che è una mappa che si prospetta abbastanza appariscente sebbene forse non lo sarà ma appunto finché non si prova non è che ci sia grande modo di scoprirlo che è zombie outbreak che mi ricordava tanto resident evil 3 che è il mio preferito in assoluto tra tutti i vari resident evil e voglio vedere com'è questa ha avuto 1898 giocate e 4 stelle quasi piene quasi piene per cui dovrebbe essere quantomeno abbastanza gradevole ecco però vediamo vediamo se effettivamente lo è oppure oppure se rimarremo delusi allora io posso scegliere io andrei sul survivor è che la prima dotazione mi è quella ah quindi siamo in modalità urda qui ok da dove di qua 130 nemici se può fa devo prendere il barile che non sono a portata adesso si ok non è servito a niente e qua mi sa che non ce la portiamo da casa ho questo vago sospetto mazza quanti so ma i miei compagni sono finti oh meno male dai dai ok chi è prima ondata superata con successo seconda ondata e questa comunque sarà bella complicata mi sa come va va grata grata oh porca già sono arrivati ma porca questi forcone calma ma io potrei tipo usare oh lo posso usare ok 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 il mortale non ha prodotto effetti di sorta cosa accade qui vado a fuoco vabbè io mi sa che mi metto mi metto su eh aiuto hanno invaso già secchi così una burinissima eh la vedo male la vedo molto male ok adesso si ragiona decisamente meglio non capisco mai se è qualcuno che sta scavalcando porca aiuto a tutti i miei amici e tutti i morti bene le notizie quelle belle devo dire ma porca ecco dai va bene manca a me d'assi amo d'alma ce la farò mai ma se tipo io me ne andassi lo contempla la mappa assassatemi via ma che davvero ma come fate ad essere ancora in piedi maledetti bene 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 ce la farò mai mai ce la farò mai si li sollevano è terribile si li sollevano resta giù dai 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 68 st'ho finendo i colpi ma che te lanci dai 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 mitraglia mitraglia dammi la mitraglia ok ok si dai 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 no ah già caricato bene dai con questa si fa si si quanto ci mette forse forse si porta via tanto sempre da là arrivano loro 89 da che parte arriva no pronto quindi oh dai dai ultima ondata credo il gioco non è molto convinto di quest'ultima ondata a quanto pare se te va oh eccoli carissimi ma non vengono perché non vengono amici siamo tutti qui ad attendervi ok mi sa che li ho attirati abbastanza ali 98 100 cortello mi sa che ci facciamo vabbè se il momento non va dalla montagna la montagna è andata al momento forza ahia si sono sbloccati si sono sbloccati vabbè abbiamo questa arma fissa si no l'arma fissa l'arma fissa aia aia via da me lontani da me andate via 113 114 15 16 17 20 20 sono tutti là 24 dai che è quasi finita dai che è quasi finita 29 30 30 30 31 e 32 oh su impresa titanica è stata bene qua qua è andata come si deve non potevamo non chiudere in bellezza bene no sono un po' un po' un po' esigente ecco per quanto riguarda queste mappe voglio voglio essere un po' un po' cattivello nelle valutazioni perché ho degli standard di aspettative molto alti per cui voglio solo il meglio per cui niente ragazzi a questo punto vi saluto vi invito a farmi sapere se avete individuato delle mappe meritevoli in caso segnalatemi i nomi in descrizione se c'è qualcosa in particolare che vi intriga di quelle che ho scelto già io insomma di quelle che mi hanno colpito e che vorrei provare fatemelo sapere in un commento e niente ragazzi io vi ringrazio come sempre da avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.